Cerimonia conclusiva del percorso formativo, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento alle tematiche concernenti il rischio amianto, la comunicazione e sicurezza nei luoghi di lavoro, le tecniche di valutazione dei rischi, organizzato dall'ANMIL di Taranto, associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, con l'assistenza tecnica dell'ENAP Taranto e la collaborazione di lavoro e welfare, un'attività approvata a livello nazionale dal Comitato di Valutazione e Selezione IRFA ANMIL. La cerimonia si è svolta ieri nella sede ENAP di Taranto, in via Dall'Olfieri. Questo corso formativo vede una ventina di ragazzi che hanno avuto un infortunio nel lavoro, che dopo questa totale infortunio sono usciti dal mondo del lavoro. Questo corso abbiamo voluto formarli per l'inserimento nel mondo del lavoro. Abbiamo fatto un corso formativo di 80 ore, diviso in 5 step, con diversi insegnamenti, partendo dal lavoro welfare con il senatore Battaparano, finendo l'avvocato Nuzio Leone e altri docenti. Con il nuovo Giosat, linea dove per farsi carico di coloro che hanno un infortunio nel mondo del lavoro ed escono per la stessa causa. Quindi anche in questo caso, noi crediamo che, visto la formazione l'abbiamo fatta a livello gratuita, noi come ANMIL, con un progetto IRFA a livello nazionale, quindi crediamo che questo potrebbe dargli una spinta in più. Non solo, noi chiediamo alle aziende che sono in linea di impianti con la 6899 di affacciarsi perché la disabilità non è un peso per l'azienda, ma è una ricchezza per l'azienda. Presenti all'evento, anche invalidi e mutilati sul lavoro, chi hanno frequentato il corso? Frequentando questo corso sicuramente ho capito molte cose riguardanti la sicurezza nel mondo del lavoro. e spero che in un eventuale futuro so meglio come comportarmi per evitare un infortunio, per evitare un rischio o evitare che qualcosa di grave possa accadere, sia a me che ai colleghi che magari ci sono accanto a me. Io con questo corso organizzato dall'ANMIL, messo a disposizione da RINA e di Taranto, spero con questa denuncia alle istituzioni, di ritornare nuovamente nel mondo del lavoro e di non essere escluso da questo mio infortunio che mi ha danneggiato. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati gli attestati di frequenza ai partecipanti del percorso formativo, che per la prima volta è stato organizzato a favore di chi in passato ha già subito un infortunio sul lavoro, riportando un'invalidità permanente, per renderlo più consapevole e informato in modo che in occasione di un suo reinserimento nel mondo del lavoro non subisca più infortuni.